La band per ora, dobbiamo dire che la band è stata davvero bella, siamo qui in Vestiva E per tutto ciò che parliamo di italiano, dobbiamo ringraziare Lays Up, la band che ha suonato stasera Ci sono tre band, tre band prima delle classificate, che hanno fatto come dei ramos stasera Adesso vado, ci sono i Vestupontrake Tecno